La formazione professionale La formazione è uno dei punti di forza da anni del Salone Nautico di Puglia. Oggi c'è un impegno concreto a fare di più con la piena collaborazione dell'ITS? Assolutamente sì. Noi abbiamo puntato tutto sui temi della formazione. Grazie al grande contributo dell'assessore Leo, di tutta la struttura regionale, abbiamo avviato dei percorsi formativi per creare competenze in un settore nautico-marittimo che ha bisogno di assumere tantissime persone e tantissime professionalità. Oggi ne discutiamo sia con il sistema formativo ma anche e soprattutto con le aziende. Saranno presenti con noi Guido Grimaldi, il presidente del gruppo Grimaldi, Alice, il principale contenitore sulla logistica, Fincantieri che farà già delle selezioni ai nostri ragazzi. Davvero un momento importante per i nostri giovani sul quale noi abbiamo puntato per il futuro del nostro evento. E la Puglia va sempre più avanti? E la Puglia va sempre più avanti ma soprattutto acquisisce un ruolo centrale anche su un segmento che richiede davvero tantissima professionalità. Noi siamo pronti e le aziende comunque stanno sostenendo questo percorso. Dottor Grimaldi, Brindisi è una realtà sempre più significativa per il vostro gruppo? Ma assolutamente, Brindisi è una realtà straordinaria per il nostro gruppo, Brindisi è una città che ha dato tantissimo al nostro gruppo da quando abbiamo iniziato dal 2012, motivo per il quale noi vogliamo ridare a questa città quanto ci ha dato. Quindi è giusto che abbiamo avuto immediatamente il favore veramente del mercato della comunità e oggi il potere impiegare in questa meravigliosa città due che sono le navi più importanti del Mediterraneo. Una per capacità che è la Keydome Palace di 2500 passeggeri e l'altra che è l'Europa Link con una capacità di 250 camion. Direi che è una cosa straordinaria. Nel sud per la prima volta vengono impiegate le migliori navi tra l'Italia e la Grecia. Questo è un dato di fatto, una cosa che non era mai accaduta e penso che la dice lunga.